Adelchi, l'ultimo re dei Longobardi. Adelchi, o Adalgiso, è stato un principe Longobardo, associato al trono dal 759 al 774 dal padre Desiderio allo scopo di garantire una pacifica successione nel regno. La sua figura è legata soprattutto alla tragedia di Alessandro Manzoni, pubblicata nel 1822. Adelchi nacque da Desiderio e dalla regina ansa, probabilmente intorno al 740. Nel 759, all'età di circa 19 anni, fu associato al trono dal padre, in un tentativo di rafforzare la posizione dei Longobardi di fronte alla crescente minaccia dei Franchi. Adelchi partecipò attivamente alla vita politica del regno, affiancando il padre nelle sue decisioni. Nel 772, quando Carlo Magno invase l'Italia, Adelchi si distinse per il suo coraggio e la sua determinazione, ma non fu in grado di impedire la caduta del regno Longobardo. Dopo la sconfitta di Desiderio a Pavia, nel 774, Adelchi fuggì in Istria, dove raccolse un esercito per continuare la lotta contro i Franchi. Nel 776, dopo aver sconfitto i Franchi a Cormons, Adelchi si diresse verso l'Italia meridionale, dove sperava di trovare un alleato contro Carlo Magno. Tuttavia, le sue speranze furono vanificate. I duchi Longobardi del sud si rifiutarono di unirsi a lui e Adelchi fu costretto a ritirarsi in Dalmazia. Qui, nel 788, morì probabilmente di malaria. La figura di Adelchi è stata spesso idealizzata, sia nella tragedia di Manzoni che nelle altre opere letterarie che lo hanno celebrato. In realtà, ben poco si sa della sua vera personalità e del suo operato. Tuttavia, è innegabile che Adelchi sia stato un personaggio importante nella storia dei Longobardi, e la sua resistenza contro Carlo Magno ha contribuito a mantenere vivo il ricordo del regno Longobardo. L'idealizzazione di Adelchi nella tragedia di Manzoni Nella tragedia di Manzoni, Adelchi è un personaggio tragico, che rappresenta la fine di un'epoca. È un giovane eroe, coraggioso e idealista, che combatte per difendere la sua patria e la sua cultura. Tuttavia, è destinato alla sconfitta, perché le forze che lo oppongono sono troppo potenti. Manzoni ha creato un personaggio complesso e sfaccettato, che suscita simpatia e compassione. Adelchi è un uomo di grande intelligenza e sensibilità, ma è anche impulsivo e irruento. È un leader nato, ma è anche un uomo profondamente ferito dalla sconfitta del suo popolo. La tragedia di Manzoni ha contribuito a rendere Adelchi un personaggio popolare e iconico. Il suo nome è ancora oggi sinonimo di coraggio e resistenza, e la sua storia continua a ispirare generazioni di lettori. Grazie a tutti.